Se pensi che per creare video professionali su YouTube ti servono software complicati o costosi come Adobe Premiere, Final Cut Pro e DaVinci Resolve, beh, in questo video ti dimostrerò che ti sbagli di grosso. Oggi parliamo di Filmora 13, un software erroneamente scartato da molti perché visto come l'ennesima imitazione economica dei software citati prima. E per questo ti mostrerò quattro sue principali funzionalità che metteranno in discussione le tue convinzioni in merito a questo potentissimo software di video editing. La prima cosa che potrebbe frenarti dall'utilizzare Filmora 13, soprattutto se già stai usando un altro software, è quella di dover imparare da zero tutte le sue funzionalità, dove si trovano, come utilizzarle e così via. Ed è qui che ci viene in aiuto la prima grande novità di questo software, il copilota AI, un vero e proprio assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale a cui potrai chiedere tutto quello che vuoi e lui ti fornirà passo passo tutte le spiegazioni di cui hai bisogno, dove si trova una specifica funzionalità, come usarla e così via. Ah, tutto questo ovviamente in lingua italiana. Ma il vero motivo che mi ha spinto a passare a Filmora 13 è il fatto di non dover più impazzire dietro alle varie impostazioni audio video. Infatti, grazie ad altre funzioni sempre basate sull'intelligenza artificiale, come il miglioramento automatico e tutte quelle legate all'eliminazione dello sfondo, è possibile, senza particolari competenze tecniche, raggiungere il risultato desiderato in pochissimi clic. Infine, per chi come te fa video su YouTube, Filmora 13 mette a disposizione altre due spettacolari funzionalità. La e-copywriter è in grado di generare descrizioni, titoli e didascalie per i tuoi video su YouTube e il generatore di miniature, che creerà per te miniature accattivanti che potrai personalizzare come più ti piace. In pratica, i tuoi video saranno pronti per diventare virali ancora prima di pubblicarli su YouTube. Ovviamente ci sono tante altre funzionalità che ti semplificheranno la vita per tutte le fasi di montaggio video. Editing veloce basato sulla trascrizione del video, generatore di musica personalizzata, text to speech, una tonnellata di template pronti, titoli personalizzati, effetti, adesivi, contenuti stock e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Filmora 13 è più di una semplice alternativa economica ad altri software di montaggio video. Cambia letteralmente le regole del gioco. Ti permette di esprimere al massimo la tua creatività e di dare vita alle tue idee come mai prima d'ora. E tu cosa ne pensi? È meglio un software che ti permette di velocizzare e automatizzare tanti processi nella fase di montaggio video o qualcosa che ti permette di personalizzare al massimo la creazione del tuo contenuto? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Inoltre, non dimenticherai di lasciare un bel like, iscriverti al canale, attivare la campanella su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video e di entrare nella mia community riservata a Telegram dove troverai tante risorse esclusive in cui potrai confrontarti con altri creator. E detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco!